buongiorno buongiorno da video 33 buongiorno e benvenuti in questo sabato 20 di gennaio la rassegna stampa breve partiamo subito con il meteo e lo facciamo andando a vedere un'immagine della webcam puntata sul dal monte maccaion un'immagine successiva bei colori per questa alba e vediamo anche un cielo abbastanza sereno sempre con l'aiuto della regia di jose nunez andiamo a vedere l'immagine che ci fornisce il satellite un'immagine che ci dà praticamente una penisola quasi completamente sgombra dalle nubi ma scendiamo nel dettaglio lo facciamo con il meteo della provincia di bolzano che ci dice che oggi inizierà la giornata con il sole ma nell'arco appunto della giornata le correnti provenienti dalla svizzera causeranno un progressivo aumento della nuvolosità in serata e durante la notte su domenica sono previste diffuse nevicate le temperature massime saranno comprese tra meno 6 e più 6 gradi andiamo a vedere adesso il meteo fornito per quanto riguarda il vicino trentino al mattino al mattino scusate in prevalenza soleggiato aumento della nuvolosità nel pomeriggio con possibilità di deboli precipitazioni sui settori settentrionali temperature in calo specie nelle massime ma adesso partiamo con il vedere le prime pagine le aperture dei quotidiani come sempre iniziamo con l'alto adige palagaccio davanti al tuenti nuova struttura al vaglio del coni stadio pista e negozi per quanto riguarda invece la foto notizia e si parla di piano antimigranti Brennero l'austria manda una task force di 600 agenti e questa è l'apertura del corriere dell'alto adige Brennero appunto task force austriaca controlli vienna utilizzerà 600 agenti rabini i problemi non si risolvono così per quanto riguarda invece la foto notizia si parla di scuola norma approvata la provincia formerà i docenti previsti corsi abilitanti mentre per quanto riguarda la politica oggi in regione prima a boldano e poi a trento la presidente della camera laura boldrini andiamo a vedere l'informazione trentina con l'adige apertura dedicata alla cronaca trento rapina con pistola due uomini minacciano e derubbero derubano un ventenne il colpo è avvenuto verso le 18 e 30 in via saluga nella zona di portacuila in corso le indagini stessa apertura per quanto riguarda il quotidiano trentino studente rapinato con pistola trento minacciato la fermata del bus e caccia due uomini mentre per quanto riguarda la foto notizia si parla è un sondaggio parto lontano da casa mamme trentine soddisfatte un sondaggio appunto sul percorso nascite e le risposte di 1879 donne andiamo a vedere l'apertura del quotidiano in lingua tedesca dolomiten dedicata la foto notizia allo stress e a come combatterlo e qual è la situazione in alto adige in alto invece il dolomiten riporta appunto la notizia della formazione in loco da parte della provincia degli insegnanti grazie a quest'accordo raggiunto con la ministra fedeli apertura invece del quotidiano target site un dedicata ai vaccini tutto più difficile per i no vax guidati da andrea speder dopo la sentenza della corte costituzionale che giudica legittima l'obbligatorietà decisa dallo stato in alto lo scontro invece tra il presidente compaccia e il consigliere provinciale dei del movimento 5 stelle paolo colsberger compaccia dice tu fai male alla democrazia per quanto riguarda invece l'informazione nazionale corriere della sera foto notizie apertura dedicata alla nomina del presidente della repubblica mattarella che contro ogni razzismo e per ricordare la showa nomina senatrice vita liliana segre sopravvissuta ai campi di sterminio di auschwitz per quanto riguarda invece le elezioni politiche berlusconi stringe il patto sondaggio sui leader in testa gentiloni seconda bonino scende renzi infine il quotidiano economico sole 24 ore proroga per lo spesometro obiettivo semplificazione accumulate le fatture elettroniche sotto i 300 euro arriva la bozza di provvedimento per il riordino e slitta il termine per l'invio dei dati iva fissato al 28 febbraio adesso prima di chiudere questa rassegna stampa breve di video 33 andiamo a vedere gli appuntamenti da non perdere oggi seconda e ultima giornata di vertical up up in solo in provincia di trento oggi e domani invece discesa e super g femminile a cortina in provincia di belluno il 23 gennaio invece slalom gigante femminile di coppa del mondo a plan de corones e infine 26 di gennaio il ritorno è il campionato e bel ritorno in campo il bolzano contro l'orli dnoimo e adesso è veramente tutto a tutti voi naturalmente il mio migliore augurio di una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti